Teniamoci lontani dalla tentazione di considerare la religione come un investimento umano e di conseguenza mettersi a contrattare con Dio cercando il proprio interesse, come hanno fatto i concittadini di Gesù a Nazareth quando gli hanno chiesto di ripetere i miracoli compiti a Cafarnao. Lo ha detto Papa Francesco nella sua riflessione sul Vangelo di questa domenica, offerta prima della preghiera dell'Angelus, invitando a convertirci da un Dio dei miracoli al miracolo di Dio, che è Gesù Cristo. Dio Padre ha spiegato a cura di ogni sua creatura, anche di quella più piccola e insignificante agli occhi degli uomini. E questo è quello che annuncia Gesù anche nella sinagoga di Nazareth. Nessuna condizione umana può costituire motivo di esclusione. Nessuna condizione umana può essere motivo di esclusione dal cuore del Padre, che è l'unico privilegio agli occhi di Dio, è quello di non avere privilegi. L'unico privilegio agli occhi di Dio è quello di non avere privilegi, di non avere padrini, di essere abbandonati nelle sue mani. Dio, ha spiegato ancora il Papa, fa sempre lui il primo passo e viene a visitarci con la sua misericordia, a farci risalire dal baratro in cui ci ha fatto cadere il nostro orgoglio. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha ricordato che oggi si celebra la giornata mondiale dei malati di Lebra, che sono soprattutto le persone più povere ed emarginate. Per questo è importante mantenere viva la solidarietà con chi rimane invalido a seguito di questo morbo. E infine il Pontefice ha salutato i ragazzi dell'Azione Cattolica della Diocesi di Roma, protagonisti dell'iniziativa carovana della pace. Due di loro, accanto a Francesco, hanno letto un messaggio e poi sono stati lanciati in cielo palloncini come messaggio di pace.